11 anni e 6 mesi di reclusione per Nelu Churaru, accusato di violenza sessuale e omissione di soccorso aggravata e 2 anni per Robert Choragariu, accusato soltanto di omissione di soccorso. Il Tribunale collegiale di Pescara ha condannato entrambi gli imputati nel processo sulla morte di Anna Carlini. La donna pescarese di 33 anni, affetta da problemi psichici, deceduta nell'agosto del 2017 sotto il tunnel della stazione ferroviaria di Pescara dopo essere stata violentata. Il PM, Rosangela Di Stefano, nel corso della sua requisitoria aveva chiesto 14 anni per Churaru e 3 anni per Choragariu. Secondo l'accusa, gli imputati avrebbero indotto la vittima, che assumeva psicofarmaci e altre medicine, ad ingerire vino. Poi Churaru avrebbe abusato sessualmente di lei e in seguito entrambi l'avrebbero lasciata morire. Una sentenza sciocca, una sentenza ingiusta. Ad oggi noi viviamo il dolore e l'ingiustizia. Siamo veramente delusi. La vita di Anna è valsa 11 anni, quindi il valore della vita è zero. È spiegabile dire veramente come ci sentiamo. Una cosa è certa. Noi, tutta la famiglia, noi andremo avanti. Perché Anna merita giustizia. 11 anni non è una pena, non è il valore della vita di Anna. Non so cosa le dovevano fare ad Anna per essere un omicidio. Non so, menata, stuprata, violentata, lasciata morire. Non lo so, sinceramente. E io voglio che il caso di Anna sia riaparto. Perché ci sono state tante lacune su questo processo, ma veramente tante. Oltre a tante ingiustizie. Io non posso pensare che lui tra 11 anni e fuori riabbraccerà la sua famiglia, i suoi figli. Mia sorella invece non c'è più. Almeno un pizzico di giustizia avrebbe fatto... Non dico che noi vivevamo bene, però ci avrebbe aiutato a questa sopravvivenza e a questo dolore. Noi non ci fermiamo ad una sentenza shock. Io sono veramente sconcertata di queste sentenze ultimamente. C'è veramente il valore della vita e nulla.